Ecco tutti i cuccioli sistemati, Milo, ovviamente sotto antibiotico, antiparassitario che aveva le pulci, anti-vermifugo, ha fatto tutto, guardate quanto è piccolo, nemmeno 500 grammi Poi ci abbiamo qui a Cara, Cara, dove ti sei messa Cara? Cara, ti sei nascosta qua Cara, bella Cara, anche lei è una bellissima gattina, bella amore, piccolina, perché ti sei messa l'amore? Poi qua sotto ci abbiamo Ali e Babà, sì, un attimo che sto facendo il video, guardate tutti i sporchi di grasso, tutti i zozzini, l'altro fratellino è seppellito, si sentono veramente a casa loro, tranquilli, felici, sporchi, come erano pieni di pulci, hanno mandato già tantissimi vermi Ok, qua invece ci abbiamo Lisa, che se ne vuole scappare, ha detto che già ha visto tutto, ha capito com'è qua, ha detto che passa, va se la cerca da sola una casetta, andate quanto è piccola, è appena arrivata, lei è ancora all'antiparassitario fresco, quindi ancora qualche pulcetta si muove Ok, a posto Lisa, che sei bella, è un croccantino, ok, e qui sotto ci abbiamo la bellissima, non si vede, Zina, 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 bella, quanto sei bella, ma piccolini, tutti piccoli sono Tutti i cottini microscopici che sarebbero morti tutti, a breve